Io per niente, scherzo con te perché ti vedo. No, beato, neanche sereno però se posso usare questo tema. Cos'è la felicità per lei? Per me è la felicità, guardi io ho una foto che non facciamo vedere, dopo gliela faccio vedere solo a lei, di mia figlia con gli occhiali da sole, quella è la felicità, è molto divertente.